POKEMON LUNA A un certo punto vi arriverà il messaggio che vi dirà che avete raggiunto ben la percentuale 10% e potete assemblare uno zigarde Vabbè la forma chiaramente la forma 10% quella che l'avete già vista è quella fatta a cane nero e verde Dopodiché che cosa dovete fare? A quel punto sempre il solito messaggio vi dirà di andare nel percorso 16 e così di assemblare il vostro primo zigarde Noi adesso ci arriviamo appunto nel percorso 16 e cosa dovete fare? Allora vedete c'è il poke center, il centro pokemon, chiamatelo come volete A destra del centro pokemon dovete andare qui dentro Una volta quindi vabbè ci saranno i due che vi chiacchiereranno ora loro sono andati via Cosa dovete fare? Venite qua Che cosa vuoi fare? Dovete mettere aggrega E solo teca zigarde Le cellule nucleotidone vanno usate per aggregare uno zigarde, 10 elementi vanno usati per creare una forma 10% Vuoi procedere? Mettete sì chiaramente Ebbene il vostro zigarde 10% è stato creato, aggregato, creato, quel che è E così otterrete zigarde forma 10% Siamo il verso? Perfetto Ah è drago terra, non lo sapevo E ora chiaramente vabbè vi chiederà Vuoi dare il soprannome? Vuoi aggiungerlo in squadra? Io lo aggiungo in squadra E lo metto al posto di Stutland Cosa vuoi fare con questo strumento? Prendi, prendi Ora hai aggiunto la tua squadra Perfetto, in questo modo avrete zigarde Ora vi faccio vedere Anche lì sotto Scusate ma Essendo un gioco che funziona con i tasti Eccolo qua, sono livello 30 Eccolo qua Ah fossa, va bene va bene Anche forza tellurica va bene Perfetto Questo è il metodo per prendere la forma 10% di zigarde Spero che questo video vi sia piaciuto Commentate, iscrivetevi Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace per sostenermi E noi a questo punto ci rivediamo in un prossimo video Ciao a tutti